Weekend di Ferragosto, questo sarà veramente da ridere, perché giocheremo, giocheremo molto. Non sarà un weekend dove dobbiamo necessariamente partecipare a tutto quello che ci viene proposto, chiaramente. Però è un weekend dove cercheremo di giocare con noi stessi, con la nostra personalità, soprattutto con la nostra personalità. Perché è un weekend dove, al di là del fatto che chiaramente, essendo Ferragosto, noi abbiamo pensato fondamentalmente a una grande festa. Una festa che dura tre giorni, una festa che ha tante sfaccettature. La prima, permetterci di conoscerci. Siamo una società che è diventata sempre più sola. E credo che questa situazione che si è creata ultimamente, lo ha reso ancora più difficile conoscersi dal vivo, conoscersi dal vero. È una società che si basa soprattutto su conoscenze di tipo virtuale, ma noi crediamo profondamente, fortemente, nelle conoscenze fatte di persona. Cioè, quindi, dove le persone si incontrano, si vedono, si parlano, sentono l'energia. Perché per noi che siamo in questo settore olistico, per noi che comunque cerchiamo di vivere la vita a 360 gradi e non in modo piatto, è importante sentire l'energia della persona, è importante sentirne la voce, è importante vedere lo sguardo. Sono importanti tanti i dettagli e quindi cercheremo di stare insieme e di conoscerci. Io ho fatto tanti, tantissimi, tantissimi raduni e ogni volta ho portato a casa veramente tanto. Questo sarà un raduno, perché alla fine, l'ho detto, è proprio un festone, ok? È un festone che dura tre giorni. Come in tante culture ci sono festoni che durano tre giorni, anche il nostro è un festone che dura tre giorni. Ci sarà l'organizzazione e quindi è un festone dove chi desidera può partecipare alle varie attività che faremo. Non sarà un continuo, continuo, continuo. Ci saranno anche dei momenti di riposo. Ma se chi non ha desiderio di stare con gli altri, di partecipare a un'attività, ragazzi, si può tranquillamente fare. Però, insomma, siamo lì insieme tre giorni e sarà, ripeto, una grande festa. Saremo messi, saranno benvenuti tutti, uomini, donne, famiglie, l'unica cosa, ragazzi, dei 12 anni in su, per x ragioni, della quale non sto a discutere adesso. Quindi, non c'è possibilità, purtroppo, di portare animali, proprio per regolamento del luogo. Ve lo dico, non perché da parte nostra ci siano difficoltà, ma proprio regolamento del luogo. Non sono permessi animali. Quindi, purtroppo, comunque è così, sappiatelo, quindi organizzatevi se decidete di farlo. Siete benvenuti anche se non conoscete nessuno, se siete persone sole che non vengono su con nessuno. Benissimo, anzi, meglio, perché conoscerete le persone lì, vi farete nuovi amici, troverete il modo di fare nuove amicizie, nuove conoscenze. Io vi invito, veramente, ad aprirvi alla possibilità di fare nuove conoscenze, perché è importante, è importante in questo momento di cambiamento, unirsi tra persone che hanno la stessa visione. Ovviamente, non è che devono venire solo persone che hanno la visione olistica, possono venire persone, anche semplicemente, che vogliono passarsi un weekend. È chiaro che cercheremo sempre di stare, cioè noi crediamo nella vita ecologica, crediamo nella vita dove c'è il benessere di tutti, non crediamo nel lamento. Insomma, queste sono le cose nella quale crediamo e speriamo che tutti quelli che vengono a questo weekend abbiano questa modalità di porsi alla vita. Ecco, per il resto cercheremo proprio di divertirci insieme e visto che ci siamo, che ci siamo, sfruttiamo questo nostro incontro per giocare un po' anche con la nostra identità. E lo scoprirete, perché non ve lo anticipo, ci sarà veramente tutto il gioco rispetto alla nostra identità, che inizialmente non sarà proprio così visibile. Lo scopriremo poi. E quindi vi invito veramente a venire al weekend di Ferragosto, ripeto, festone di tre giorni. Quindi noi quando ci mettiamo a far festa, ragazzi, siamo delle festaiole non indifferenti. Quindi sarà veramente soprattutto l'insegna della festa, l'insegna del divertimento, ma con una piccola apertura rispetto a noi stessi. Vi aspetto, scrivete alle maghe del cuore, chiacciolagmail.com